Colossea vende la tua casa L'immobile è disposto su due livelli partiamo dal piano secondo quindi il piano attico dove troviamo soggiorno cucina a vista camera matrimoniale bagno veranda e balcone ed ecco il salone grazie a tutti grazie a tutti il terrazzo è stato chiuso ermeticamente con una struttura rimovibile e di ultima generazione una vera e propria zona a pranzo esterna dotata di condizionatore grazie a tutti grazie a tutti concludiamo la visione del piano attico dal bellissimo pavimento ingresso e porcellanato effetto legno passiamo al piano superattico dove troviamo una camera matrimoniale un bagno e un grandissimo terrazzo panoramico e di proprio dal grande terrazzo dotato di tende da sole che concludiamo il nostro tour immobiliare vi ricordiamo che per visionare l'immobile o scoprirne tutti i dettagli potete contattarci allo 06 50 91 53 70 oppure consultando il link nella descrizione del video per vendere o comprare il tuo immobile a Roma scegli Colossea grazie a tutti 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 grazie a tutti